Tra poco più di 19 giorni ci sarà l'inizio ufficiale della Serie A ed il Frosinone Calcio sta completando l'accordo con l'Udinese per il trasferimento di Emil Alfredson che ha già abbandonato il ritiro bianco-nero. Il prossimo obiettivo è Danilo. Regina, Verona, Udinese ed ora Frosinone, quattro squadre italiane, quattro avventure in Serie A. La quarta, appunto, avrà i colori dei giallazzurri del club Ciociaro che Emil Alfredson si prepara a vestire nella prossima stagione. Il centrocampista islandese, reduce dalla partecipazione ai mondiali russi con la propria nazionale, è infatti virtualmente un nuovo giocatore del Frosinone. C'è l'accordo tra i due club per il trasferimento in Ciociaria dell'ex veronese che dovrebbe firmare un contratto biennale. Alfredson ha già lasciato il ritiro austriaco dell'Udinese. Il club Ciociaro, scrive su Twitter, il giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira, ha quasi piazzato un tristi colpi. Definito l'acquisto dell'islandese Alfredson che ha firmato un contratto biennale, mentre mercoledì dovrebbe arrivare l'ufficialità del trasferimento in prestito di scuffe dall'Udinese. Per l'attacco l'obiettivo è ancora Marco Sau del Cagliari, con il quale sono partiti i contratti per avviare la trattativa.